Siano lodati Gesù e Maria. Cari fratelli e sorelle, oggi è la memoria di Santa Elisabetta di Portogallo e anche del beato Pier Giorgio Frassati, due figure molto diverse tra loro. La prima regina di Portogallo nel XIII secolo, il secondo giovane studente universitario di Torino nel XX secolo. Molto diversi tra di loro ed esempio per la nostra vita. Santa Elisabetta, come vedremo tra un po', ci dà l'insegnamento della pazienza durante la sua travagliata vita matrimoniale. Il beato Pier Giorgio è di modello per tanti giovani nel testimoniare coraggiosamente la fede. Elisabetta nacque nell'anno 1271. Le fu dato il nome di Elisabetta in memoria di Santa Elisabetta Regina d'Ungheria, sua prozia. All'età di otto anni cominciò a recitare l'ufficio divino e così fece per tutta la vita. Si sposò con Dionigi, re del Portogallo, senza tralasciare però gli esercizi di pietà e le buone opere in cui si era fino allora esercitata. Al mattino si alzava presto, recitava parte dell'ufficio, assisteva alla Santa Messa e poi trascorreva le ore della giornata nell'adempiere i suoi doveri, nella lettura della Sacra Scrittura e nel lavoro manuale. Non stava mai oziosa. Da questo sistema non si lasciò smuovere da coloro che le suggerivano una vita più conforme alla sua dignità. Osservava i digiuni imposti dalla Chiesa e se ne imponeva altri. Visitava e sollevava i poveri e gli infermi. Ebbe però molto da soffrire da parte del marito, che conduceva una vita dissoluta e che la tradiva di continuo. Elisabetta se ne afflisse più per l'offesa fatta a Dio che per l'affronto fatto a lei. Con dolcezza cercò di ricondurre il marito sul retto cammino e senza uscire in amari lamenti spinse il suo eroismo fino a curare l'educazione dei figli naturali di lui come se fossero propri. Verso il marito, la pia regina usò ogni preghiera ed esortazione per indurlo alla conversione e sempre con tutta pazienza e dolcezza, nonostante che le sue premure fossero ricambiate con altri torti ed affronti. Essendo in seguito stata accusata di avere eccitato suo figlio alla ribellione contro il re, fu privata dei suoi beni e relegata in una piccola città. Ella comunque esortò tutti a mantenersi fedeli al sovrano. Il re suo marito ebbe finalmente la grazia di entrare in se stesso, riconobbe l'innocenza della sposa e la richiamò alla corte perdonando a suo figlio. La santa regina approfittò della conversione del marito per confermarlo nella via della salvezza eterna. Il re morì nel 1325. Salito al trono Alfonso, figlio di Elisabetta, ella pensò di farsi religiosa nel convento di Santa Chiara a Coimbra, ma non essendole stato consentito, visse ritirata in un appartamento vicino al monastero. Per due volte si recò umilmente e poveramente in pellegrinaggio a Compostella. Di ritorno dal secondo pellegrinaggio, avendo udito che il re suo figlio era in discordia con Alfonso VII di Castiglia, si affrettò per arrivare ad Estramoz per pacificare i due contendenti, ma colta da violenta febbre, morì santamente all'età di 65 anni. Fu sepolta nel monastero di Santa Chiara da lei fondato. Passiamo ora al beato Pier Giorgio Frassati. Pier Giorgio nacque a Torino nel 1901. Il padre, Alfredo, senatore del Regno d'Italia, fondatore e direttore del famoso quotidiano La Stampa, fu ambasciatore a Berlino, mentre la madre si chiamava Adelaide Ametis. Studiò presso i Gesuiti, poi frequentò il corso di Ingegneria Industriale e Meccanica al Politecnico di Torino, specializzandosi in estrazioni minerarie. Pier Giorgio fu membro attivo di diverse congregazioni e associazioni religiose, si unì alla confraternita del Santo Rosario nel 1919 e al gruppo di studenti universitari dell'Adorazione Notturna del Santissimo Sacramento, l'anno seguente. Divenne terziario dominicano nel 1922 con il nome di Girolamo. Era anche membro dell'Associazione San Vincenzo de Paoli e forse visitando i malati, contraste una forma virale di poliomielite, dato che morì improvvisamente nel luglio del 1925. Il suo funerale fu degno di nota per il gran numero di poveri che vi parteciparono. Fu sepolto a Pollone, vicino a Vercelli, luogo d'origine della sua famiglia. Appassionato di montagna e sportivo, ebbe un ruolo importante nella vita studentesca. Era intransigente quando doveva difendere la fede. Si dedicò anche all'attività politica e questa sua attività era motivata dalla fede. Desiderava riformare lo Stato in base a principi veramente cristiani. Uno dei suoi insegnanti, il professor Cogliazzi, scrisse una vivace biografia di lui poco dopo la sua morte e ciò contribuì a farlo conoscere diffusamente. Molti gruppi studenteschi universitari si sono ispirati al suo esempio. La sua causa di beatificazione è stata presentata nella Diocesi di Torino nella metà degli anni Trenta e Pier Giorgio Frassati è stato beatificato nel 1990 dal Papa Giovanni Paolo II. E ora, cari fratelli e sorelle, terminiamo con una preghiera rivolta a Santa Elisabetta di Portogallo. O Santa Elisabetta, modello di ogni virtù sublime, col vostro esempio mostraste al mondo quanto può in un'anima cristiana la carità unita alla fede e all'umiltà. Con una fede in vita, foste vera discepola del Vangelo, metteste a ogni vostra soddisfazione nel parlare con i poveri, nel servirli, nell'asciugare le loro lacrime e nel soccorrerli. La vostra umiltà fu così grande che voleste sottoporvi a una vita di privazioni e di penitenze abbracciando con gioia la croce del Divin Redentore. O Santa Elisabetta, siate la celeste amica dell'anima nostra, aiutateci ad amare Gesù come voi lo avete amato, proteggeteci ottenendoci il perdono dei nostri peccati e apriteci la via al Regno dei Cieli, dove voi sedete beata. Amen. Santa Elisabetta di Portogallo, prega per noi. Grazie a tutti i nostri amici.